Dei temi di Expo ce n'è uno che va in secondo piano di solito e che a me è quello che è piaciuto più di tutti fin dall'inizio, è quello che recita Energie per la vita, che mi corrisponde profondamente e che trovo fondamentale perché non abbraccia semplicemente un tema specifico per quanto fondamentale come quello dell'alimentazione, ma in qualche modo lavoro sull'attitudine, lavoro sui comportamenti, lavoro sulla relazione con il mondo. Allora la necessità che un Expo così come gli esseri umani che ci partecipano produca innanzitutto energie per la vita vale per tutto, vale per l'alimentazione, vale per noi stessi, vale per le nostre relazioni sentimentali, vale per la crescita dei bambini, vale se gestisci una squadra, un'azienda, un gruppo, una società, una cultura. E devo dire dei temi che personalmente mi appassionano di più. Io credo appunto che se un'esposizione universale si limita a essere una fiera che dura sei mesi non c'è nessuna ricaduta positiva. Se si limita a vedere l'attualità di quei sei mesi, cioè a convogliare l'energia, i visitatori, l'attenzione, per quei sei mesi non ci sarà nessuna ricaduta positiva. Se invece quei sei mesi funzionano appunto da motore per un salto, per un scarto qualitativo, cioè per portare alla luce appunto, come provo a dire anche prima, il fatto che di energie forti, importanti, inventive, ce n'è tante, io mi aspetto questo, credo che sia il risultato migliore che si possa ottenere. Un risveglio dal punto di vista della valorizzazione di tutto quello e c'è che si muove, che crea, che costruisce, che fa, che produce a diversi livelli nella più assoluta molteplicità. è banalissimo, non riesco a trovare altro aggettivo per definire l'export non universale, accidenti. Il cappuccino, il gelato, i dolci.